Musica Sale parto, chiuso per sciopero il 12 febbraio. Oltre il 90% dei ginecologi ha incrociato le braccia ed ha aderito alla protesta proclamata insieme alle ostetriche nei punti nascita, nei consultori familiari e negli ambulatori ostetrici del territorio. Le rivendicazioni degli operatori del settore sono soprattutto due. Punti nascita sicuri e nuove norme sul contenzioso legale. In sostanza, i ginecologi e le ostetriche chiedono garanzie per poter lavorare al meglio in strutture sicure e moderne, nuove norme di legge per il contenzioso medico legale e tariffe controllate per le polizze assicurative. Nel corso della serrata, che si calcola abbia provocato lo slittamento di circa 1100 interventi in sala parto, sono state comunque garantite le emergenze e le prestazioni non differibili. In tutta Italia si sono svolte infine manifestazioni indette dalle principali sigle di categoria. Grazie!